Signori, durante i miei viaggi in lungo e in largo per le vastissime lande del crogiolo ho visitato destinazioni alla ricerca di articoli che a volte mi hanno rubato il cuore e altre mi hanno lasciato profondamente perplesso. Per ogni città, villaggio o roccaforte dove mi sono recato una tappa è sempre stata fissa, l'emporio, ed è lì che grandi tesori si celano in attesa di essere scoperti e mostrati portando a conoscenza di quante più persone possibili la loro esistenza. In questo viaggio, visitando la miniera di Boomstrang, mi sono recato personalmente nel mercato locale, dove mi è stato suggerito un prodotto che rappresenterà una vera e propria gemma rara che non sarà molto facile da reperire presso gli store sparsi sul territorio, ma ci arriveremo fra poco. Ben tornati quindi in un nuovo appuntamento dell'emporio del crogiolo. In questo episodio il mercante ci mostra il double pack del quinto set del TCG di One Piece, Awaking of New Era. Il prodotto si presenterà in tinta Total White, con l'iconica immagine di Luffy Gear 5 manga con alle spalle la trama della bussola e la mappa del mondo dove Cappello di Paglia e Ciurma navigano tra un'avventura e l'altra sulla parte frontale, il titolo del prodotto riportato in chiaro con il nome della casa madre e le varie info di appartenenza sulla parte superiore, ed il contenuto con tutte le diverse informazioni legali del caso descritte sul dorso del cartone di protezione. Cartone che a sua volta conterrà la scatola principale, riproponendo Luffy nella sua attuale ultima forma sulla parte frontale accompagnato dal nome del prodotto riportato sulla linguetta di apertura, unicamente il titolo del GCC in questione con le info di appartenenza in alto, le versioni alternative di Trafalgar Law costo 3 e Kid costo 5 Blocker, rispettivamente sul lato sinistro e destro, e la rappresentazione di Kaido Alternative costo 10 di OP05 che dominerà solitario il retro della confezione. All'interno del double pack si troveranno due booster di espansione del quinto set Awaking of New Era, dove potrete trovare 12 carte atte ad arricchire, o la vostra raccolta, o con un pizzico di fortuna, completare la decklist che preferirete impiegare in torneo. Fortuna che purtroppo non mi ha pizzicato, avendo sbustato letteralmente il nulla, ma come dico sempre, fa parte del gioco. Ed un pacchetto Special Dawn Car Pack DP02 che conterrà uno dei due Dawn disponibili, che riproporranno alcune delle scene più iconiche dell'anime. Ora, dopo aver visto cosa conterrà questo articolo, comprendiamo al meglio la motivazione per la quale sarà difficile riuscire a reperirlo sul mercato primario. OP05 è stato un delirio. Credo che a livello di numeri sia il più venduto, anche più di Romance Dawn, e a pochi giorni dal day one, è praticamente terminato ovunque. Calcolate che le due bustine che mi avete visto aprire poco fa sono letteralmente le uniche due bustine che ho aperto in questo set. Praticamente per riuscire a completare i deck che gioco ho acquistato ogni singola carta che mi serviva singolarmente. E a parte i box, anche per i Double c'è stata una distribuzione limitata, ancor di più rispetto ai primi. Infatti, sono stati inviati prodotti contati a singolo esercizio che, come voleva si dimostrare, data la grande attesa per Awaking, sono terminati in tempo zero. E la ristampa, arconte? Non sarà disponibile per tutti i negozi, ma solo per i centri TCG Plus accreditati. Quindi informatevi al riguardo e scoprite se la vostra fumetteria di fiducia aderirà all'iniziativa. Ma solo per i box. Da quel che mi è stato detto, i Double Pack di OP05 non saranno più disponibili e quindi chi li ha acquistati bene, chi no, magari, sarà per la prossima. Sempre se in 06 saranno presenti. Ma non disperate! Se non li avete trovati nel vostro centro ludico di fiducia, potrete comunque acquistare i pack nel mercato secondario e a prezzi piuttosto onesti. In descrizione vi lascerò i link sia a Car Market che a Car Trader, così da poter recuperare in totale comodità la vostra copia tutta da spacchettare o da tenere chiusa in vista di una futura rivendita. Prima di concludere, volevo ringraziare i signori di Loop Games e in particolare Luis per avermi dato la possibilità di parlare di questo prodotto. Bene, è arrivato il momento di iniziare un nuovo viaggio verso mete più o meno distanti, dove gli empori del luogo riserveranno per me e per voi i loro tesori nascosti. Ci vedremo in un prossimo appuntamento di questa rubrica non appena sarò tornato dal mio girovagare. A presto!